segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te dunque c'è sempre collegato con noi Giuliano Mignini magistrato consulente della commissione antimafia ma c'è anche collegata Ilaria Amenta una collega che ha scritto un libro dal titolo io sono l'uomo nero che è frutto di una serie di conversazioni con Angelo Izzo documenti che Izzo le ha inviato ma poi in realtà Ilaria lo hai anche incontrato che personaggio è ce lo racconti la cosa che più lascia prima di tutto buonasera a tutti i telespettatori naturalmente a voi in studio la cosa la cosa che più lascia sconcertati guardando Izzo parlando con Izzo leggendo le sue memorie è la sua lucidità è la sua lucidità nel raccontare quello che ha fatto che ha commesso lui insieme ai la banda dei pariolini neri così l'avete chiamata voi da studio loro si chiamavano i drughi pariolini i drughi ovviamente il nome prende spunto non dagli ultra juventini ma ovviamente dal film di Kubrick Alex e i suoi amici fratelli che fanno dell'ultra violenza la loro vita con quella miscela di latte e droghe per appunto esercitare al massimo l'ultra violenza a questo si ispira Izzo che nelle sue nei suoi diari e nelle nostre conversazioni è quasi prova un gusto nel rimembrare tutte le ferratezze e nefandezze che hanno compiuto e che hanno fatto a partire non solo dal massacro del Circeo ma a partire dagli sfasci così chiamavano loro nel gergo drugo le violenze sulle donne gli sfasci che compivano nei confronti delle donne che per loro erano soltanto un hobby lo sfascio un hobby le rapine il traffico di stupefacenti gli omicidi sequestri di persona fino ad arrivare al Circeo che sembra quasi il punto naturale di arrivo di tanta violenza di tanta efferratezza che tipo è Izzo? Izzo è un personaggio che oggi se ci fosse oggi il processo del Circeo l'avvocata Lagostana Bassi sapete perfettamente chi è l'emblema del femminismo ha fatto tante battaglie diceva che durante il processo del Circeo i tre sono stati condannati all'ergassolo perché era inevitabile erano talmente lucidi talmente consapevoli talmente anche come dire in qualche modo ostentavano quello che avevano fatto che non si potevano accettare le perizze psichiatriche di parte che erano naturalmente state presentate mi chiedo se oggi in qualche modo queste perizze di parte col processo che si fanno oggi sarebbero accettate perché è evidente che quantomeno per quanto riguarda Angelo Izzo. Scusa Ilaria ma perché voglio dire secondo te c'è un misto di mitomania narcisismo che può portare anche un personaggio come Izzo a raccontare cose che magari non sono davvero accadute ma che lui riesce a costruire a cucirsi addosso in maniera così precisa. Sicuramente è un io l'ho definito un narciso maligno narcisista maligno sicuramente è uno che nella scrittura oggi dopo quasi 50 anni di carcere trova di nuovo adrenalina quasi criminale. Sì è vero molte cose che mi ha raccontato che trovate anche nell'uomo nero nel libro io sono l'uomo nero non hanno ritrovato dei riscontri processuali è pur vero che sono tutti fatti di cronaca che sono capitati in quegli anni che ho verificato molti dei quali sono rimasti impuniti moltissimi e quindi sicuramente lui è un uomo che come hai detto tu Andrea può in qualche modo architettare nella sua mente tutto delle fantasie criminali e criminose che magari non ha compiuto ma ti assicuro che tutto quello che lui richiama è estremamente dettagliato. Alcune cose sono anche riscontrabili nelle istanze processuali. Senti ma ti ha mai parlato del mostro di Firenze in maniera esplicita e anche di Narducci? Mi ha parlato in modo esplicito del caso Corazzini e di Narducci non del mostro di Firenze raccontando un po' come avete come ha detto poco fa la Scali in studio raccontando che quella sparizione era propedeutica a un rito iniziatorio della setta della Rosa Rossa quindi ha raccontato che ben 15 drughi vanno a prendere a prelevare a Tai di Cadore Rossella Corazzini la vanno a prelevare e la portano come ha detto la Scali prima a Perugia e poi nella villa di Francesco Narducci che lui dice essere un uomo fascinosissimo, biondo del quale diventa molto amico, vestito molto bene, un fascistone lo definisce oltretutto quindi diciamo c'è questa tendenza all'estrema destra come dicevi tu poco fa in studio che ritorna e si ripete e ricorda anche Izzo che nasce come estremista di destra e poi diventa un criminale vero e proprio, questo si può dire senza nessuno scrupolo naturalmente e in questa villa del Narducci si mette in pieno un rito iniziatico che è quello di diciamo sverginare la ragazza Rossella Corazzini che è stata prelevata e di appunto usare violenza contro di lei uno per uno per diventare un'adepta di questa setta della Rosa Rossa del quale lui era già stato iniziato qualche tempo prima a Firenze in una chiesa sconsacrata da un gran maestro del 33esimo grado, cioè credo il più alto livello della massoneria ma lui la Rosa Rossa non la definisce una loggia massonica, la definisce più quasi un'organizzazione criminale la paragona un po' alla mafia e alla camorra perché dice che a chi aderisce alla Rosa Rossa deve aspirare alla perfezione e per aspirare alla perfezione devi uccidere e naturalmente questo richiama un po' l'organizzazione criminali quali appunto la camorra, l'andrangheta o la sacra crononita e quindi in questa villa si consuma questa violenza che appunto è proprio etica all'iniziazione di 15 truichi alla quale lui racconta di aver preso parte ma racconta di non aver preso parte né al sequestro né all'omicidio, questo a me ha raccontato cioè all'omicidio e al sequestro lui dice di non aver preso parte Però ai membri della commissione che lo hanno ascoltato sembra che abbia descritto con grande precisione la casa di Narducci la villa sul Trasimeno con dei dettagli anche perché non poteva c'è